9 giugno 1936, Galeazzo Ciano viene nominato ministro degli affari esteri. Marito di Edda, figlia di Benito Mussolini, Ciano è in sostanza il delfino del duce, oltre che la stella mondana del regime. Dopo aver svolto un ruolo decisivo nell'alleanza col regime hitleriano, tuttavia, a partire dall'agosto 1939, il suo atteggiamento nei confronti del nazismo muta profondamente e il 25 luglio, la notte del Gran Consiglio, Ciano vota a favore dell'ordine del giorno Grandi, ostile al suocero. Imprigionato a Verona, Ciano viene condannato a morte e fucilato l'11 gennaio del 1944.